Previsioni meteo centrate in pieno e così neppure oggi il maltempo ha risparmiato l'isola d'Ischia. Vento forte ed acquazione hanno caratterizzato l'intera giornata creando grossi disagi soprattutto agli utenti del trasporto marittimo. Infatti a causa del mare agitato gli ariscafi hanno viaggiato a Stinghiozzo, mentre la nave Caremar delle ore 14 da Pozzuoli per Ischia, partita con circa 40 minuti di ritardo, ha ritardato anche l'ormeggio in quanto, giunta all'esterno dello scalo ischitano, ha trovato tutti i posti occupati. E come se non bastasse il mare mosso, a rendere difficile la vita degli utenti del trasporto marittimo ci si è messa anche la pioggia. Incredibili le scene che si sono vissute sul porto di Ischia intorno alle ore 16 e 20, quando i passeggeri delle navi provenienti da Napoli e da Pozzuoli hanno dovuto fare i conti con un violento acquazzone. Impossibile scendere dai traghetti, in quanto la banchina era completamente allagata e solo grazie alla pazienza e alla collaborazione dei marinai della Medmar, i passeggeri, soprattutto anziani e bambini barricati nel garage, sono stati raggiunti sin sotto il portellone da auto privati e tassisti che hanno fatto la spola con i parcheggi.